Allora adesso tu tieni la bacinella a una certa altezza perché adesso userò una tecnica speciale con l'acqua e riuscirò a centrarla Sì dai muoviti che ho da fare E' un po' di fiducia però, adesso ti faccio vedere E questa è la tua tecnica speciale Ciao a tutti ragazzuoli, io sono Faxi Non dovevo andare così l'intro, volevo fare una cosa figa, centrare la bacinella con una tecnica speciale L'ho sbrodolato tutto, cioè è imbarazzante, non so neanche sputare Però oggi ragazzi non siamo qua a inseguire i lemuri a piedi nudi Ma siamo tornati Su una prova a non ridere con acqua in bocca Che a quanto pare preferite perché almeno così sto zitto, non posso parlare Questa cosa è molto triste Ma tralasciando questo direi di iniziare E in teoria grazie a questa bacinella dovrei riuscire a non far esplodere la postazione sputandogli sopra Vi vado a caricare con l'acqua e ci vediamo all'interno del video Abbiamo appena cominciato E che cavolo però Non ho preso il tovagliolo per pulire Che cosa orribile Cioè ho già riso Ma ragazzi sono improponibile Ma che resistenza ho Di un criceto in coma Cioè ho già riso BAMBAMBAMBAMBAMBAMBAM BAMBAMBAMBAMBAMBAMBAM Vabbè, avrei avuto la stessa reazione in effetti. Allora, ho sputato dappertutto ragazzi. È già tutto bagnato ma lo sapevo tanto che finiva così. Mmm can you shut up i had so many cute outfits planned for this year that i couldn't wear so i just wanted to show you see this i love it i couldn't wear it love it couldn't wear it then there's this love it couldn't wear it love it couldn't wear it and this was supposed to be my cute costume but no mom yes mom yes 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 ah no 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 nope no 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 Sì, 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 sì. Ma che suono era abbagliato Abbiamo già visto dei filmati un po' strani Devo dire Tipo il gallo di prima Cosa si è buggato Però questo è bellissimo Ho preso un infarto Anche la signora stava morendo Ok Ho reso già 28 volte Begge 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 Ho scorreggiato Ho scorreggiato povero Troppo sforzo C'è lui che l'ha fatto decisamente bene È perfetto Lui ci voleva provare Voleva riuscirci a tutti i costi Guardate lo sforzo nel suo viso E poi è esploso Il gabbiano umano Ma scusate che risate sono Questo è quando non parte la macchina Ma perché? Va bene ragazzi Concludo qua perché Sta succedendo un macello qua attorno È tutto bagnato Il microfono probabilmente è già esploso Ma io non me ne sono ancora accorto Cioè è entrata tutta l'acqua dentro Anche questa volta ho perso tantissimo Avevate dubbi? Ma io neanche mezzo Fatemi sapere se siete riusciti a non ridere Oppure se avete fatto come me Che avete riso dall'inizio alla fine E in caso qual è stato il filmato Che vi ha divertito di più A me sono piaciuti tutti Però prima di concludere Direi di andare a salutare TheGamer Luigi Tassaro Giulia Letting E Sere Chan Ciao ragazzi E il VC3 di oggi TheGamer Grandissimo E raga mi raccomando Se volete essere salutati Vi basterà scrivere un commento divertente Sotto a questo video E inoltre vi ricordo che in descrizione Troverete tutti i link dei miei social Instagram, Facebook E quindi se vi va Seguitemi su Instagram Ma lasciate un bel mi piace Alla pagina di Facebook Iscrivetevi al canale per supportarmi E ora vi do l'appuntamento Al prossimo episodio Ciao ragazzi